Grazie, è per me un piacere essere qui in questa grossa manifestazione. Domani o oggi stesso scriveranno che questa piazza è piena di razzisti e di xenofobi. Lo hanno anche detto di Trump. Abbiamo visto che fine ha fatto Trump, abbiamo visto che la sua è stata una vittoria e quindi non ha proprio alcun senso trasformare questa manifestazione dandole un altro significato. Il significato che vogliamo dare a questa manifestazione è quella di un chiaro no al referendum al voto del 4 dicembre. Ma perché dire no? Per la questione della riforma del Senato? Per la questione della riforma complessiva del sistema politico? No, non è questo il vero quesito. Il vero quesito è un altro. Il vero quesito è che se noi diciamo sì, diciamo sì all'Unione Europea che per la prima volta viene introdotta direttamente nella nostra Costituzione. E noi non lo vogliamo. Noi vogliamo dire no all'euro, a questa moneta che ci sta disintegrando come popolo e come popoli europei. E vogliamo dire anche un chiaro no all'Unione Europea. E' per questa ragione che noi diciamo no. Diciamo no a questo referendum per dire altrettanto no a questa Unione Europea. Dicono che adesso l'America sarà nel mirino dell'Unione Europea. E no, sarà l'Unione Europea anche nel nostro mirino come in Francia nella prossima primavera, così in Germania e così prossimamente anche da noi. E' l'Unione Europea che sarà nel nostro mirino, non l'America di Trump. Grazie.